Il cantiere aprirà tra fine gennaio e inizio febbraio. L'atto supplettivo con la Bits & Partners è fissato per il 26 gennaio, dopodiché i lavori potranno iniziare. 801 giorni dopo la mareggiata del 2018, Rapallo sogna la nuova diga di protezione della città, un'opera attesa e necessaria per proteggere il centro. Questa mattina è il punto sul progetto all'Hotel Bristol. 170.000 tonnellate di massi naturali per la scogliera, che sarà ampliata di 15 metri. Il muro sarà alto per un'estensione di 380 metri, capace di fermare onde più alte di quelle di fine ottobre 2018. L'intervento coinvolgerà in media 40-50 persone presenti tutti i giorni in cantiere, oltre a 100 professionisti dell'indotto tra marinai e trasportatori. Il progetto è privato ma di interesse pubblico. I lavori saranno eseguiti da Unati, composta da Sales e Savarese Costruzioni, note nell'ambito delle infrastrutture portuali. Attualmente la società è composta dall'apporto turistico con l'Ambizian Partners che farà da garante dei lavori attraverso una new co-ausiliaria ad hoc per entrare nel capitale solo dopo al completamento dei lavori. L'idea è il programma di concluderli per maggio del 2022 e sono sereno che, ripeto, con l'aiuto di tutti ce la faremo. Non è stato facile, ha proseguito Bizzi e più volte ho pensato di mollare, ma l'operazione è riuscita anche grazie alla grande collaborazione con il Comune. Abbiamo avuto 286 incontri ufficiali, ha ricordato il sindaco. Nel suo intervento il governatore Ligure Toti ha detto che questo progetto parla di futuro, che la collaborazione pubblico-privato dovrebbe essere praticata sempre di più e che il coraggio di prendere decisioni paga anche se la classe dirigente rischia. Prossimo appuntamento in primavera per la presentazione dell'idea di sviluppo del porto.